Buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia dopo il 22-23 di giugno, quando una perturbazione di origine atlantica collegata a un calo delle temperature scenderà sull'Italia respingendo l'anticiclone africano più a sud. L'anticiclone africano colpirà ancora duramente l'Italia in questi giorni con temperature di circa 7-8 gradi a di sopra delle medie anche in quota. Ma ecco che poi attorno al 22-23 di giugno avremo fortissimi contrasti termici che porteranno a intensi temporali e sistemi temporaleschi anche multicellulari sulla pianura padana, specie tra Piemonte, Lombardia e Veneto, con il rischio anche di grandinate di medie e grosse dimensioni e downbast. Nel frattempo il caldo calerà, infatti non si toccheranno più picchi di 34-35-36 gradi ma rimarremo su valori massimi di 28-29 gradi nelle giornate più calde.